Passiamo adesso al volley, più di mille persone ieri a Cerese per il mestre alle vecchie glorie del Gabbiano Virgilio e la nazionale Over 50. In questi casi più che mai è risultato assolutamente secondario, ma nessuno degli attenti in campo si è risparmiato, regalando ad oltre mille tifosi un tuffo nel passato ricco di emozioni. Successo senza alcun dubbio per l'amichevole tra Gabbiano 40 Plus e la nazionale Over 50 di volley, per i tifosi e consiglieri nel palazzetto di Cerese, la soddisfazione di riabbracciare i campioni di quello che fu il miracolo del Gabbiano Virgilio. Campioni con qualche anno in più sulle spalle, ma legatissimi ancora a Cerese. Il bello di avere qualche anno in più è che si riescono a fare queste cose che veramente danno un senso a tutto quello che si è fatto e a tutto quello che una città come Cerese ha dato allo Palavolo e a noi. E questi ricordi ci risvegliano troppe emozioni su serio. Un piacevole ritorno al passato, ricordando anche con un pizzico di nostalgia un modo di fare sport che forse non c'è più. Penso che quello che in quegli anni lì si sia vissuto qui dentro sia qualcosa di irripetibile in generale, perché non esistono più queste realtà, chiamiamole anche a conduzione familiare. I ragazzi del Gabbiano 40 Plus hanno battuto 2-7-1 la nazionale over 50 forte di Bertoli e Cantagalli, tra l'entusiasmo di un pubblico che ha ancora fame di grande volley. La passione della gente è ancora viva e si è visto stasera a tanti anni di distanza come davvero sia la squadra che il pubblico sono stati davvero sempre uniti da quel comune denominatore che era l'entusiasmo.